Che cosa vuoi? Avevi accennato a un senatore. Puoi trovarlo al Campidoglio? Non hai bisogno di me. Una volta ucciso il banchiere, voi ragazze dovete riprendervi il suo denaro. Bene. State pronte. State pronte. State pronte. State pronte. State pronte. State pronte. La curiosità nella cura della gotta proveniente dalle piandre, che consiste nel bere grosse quantità di piedi. I giorni dei Borgia sono contati. Li uccide. Il borgia è troppo abito. Una vera ispirazione. Allora, dov'è questo senatore? Perché dov'è... Basta con le ciance! Pagate il debito. Fate un'eccezione per un povero uomo. No! Il banchiere ci ha mandato a riscuotere. Avrò il suo denaro molto presto. È troppo tardi. Un buon samaritano a Roma. Credevo fossero tutti estinti. Senatore Egidio Troche. Non dovrò del denaro anche a voi, vero? Sto cercando il banchiere di Cesare. Cesare Borgia. E voi sareste... Un amico di famiglia. Cesare ultimamente ha molti amici. Purtroppo io non sono tra questi. Posso pagarvi. Ma che meraviglia! Sconfigge le guardie e mi dà anche del denaro. Dove siete stato per tutta la mia vita? Sarà meglio allontanarci. So dove possiamo andare. Qui. Avanti. Corri. Non fermarti! Dovrete proteggermi però. Le guardie non sono molto collaborative. Non so se ci siamo intesi. Vi per chi? Avanti. Qualcuno vi vuole morto? Qualche mese fa, mio fratello Francesco, il ciambellano del Papa... Lo so, non mi fate parlare. Mi ha rivelato i piani di Cesare per la Romagna. Ho scritto all'ambasciatore di Venezia per avvisarlo. Una delle mie missive deve essere stata intercettata. Ma il senato è inutile. Dove tutto il potere è in mano ai borgi? Sapete che vuol dire non avere nulla da fare? Ti cambia te. Lo confesso. Iniziate a scopettere, a bere... E andare bene. Ma siete un mago. Avete capito dal profumo sulla manica? Qualcosa del genere. Datemi un minuto. Che fare con questo? Vi prego, lasciatemi stare. Non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Sono un freddo. Vi prego, non uccidetevi. Certo i senatori proponevano petizioni su problemi seri. Si va. Crudeltà illegale, abbandono infantile. Ora leggeriamo sulla misura giusta delle maniche femminili. Non voi. Voi chiedete soldi per cause false, così da ripagare i debiti di gioco. Cause false? Sono intenzionato a perseguirle finché sarò finanziariamente in grado di farlo. Avete mai guardato una tomba e pensato è la cosa migliore che avrò fatto in vita mia? La morte mi chiama a gran voce, fratello! Qui non è sicuro. Continuiamo a muoverci.